Vanilla cioccolato esiste anche per merito di mio papà per tutto quello che mi ha passato e ne sono molto grato il sacrificio e la passione del lavoro credo che sia un modo per suggerire 70 anni che non sono solo una tradizione ma è anche una conquista di una città perché quel prodotto che si è fatto conoscere in tutta Italia il canolo, il fatto di ricotta e io la mia intervista parte a parecchi di foto a vede perché io non sono delle migliore altre e quello che non sono anche conoscere ma io sono delle migliore altre ma io sono delle migliore altre e Aurora brava, 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 per loco a tutti Grazie a tutti, grazie a tutti.